Per venerdì prima Saresti disposto a testimoniare che l'uomo che tu hai visto sparare a GMC non era l'uomo che la polizia ha arrestato? Quelli hanno preso l'uomo sbagliato Poliziotti corrotti, falsi colpevoli e un avvocato che deve ritrovare la propria vita Forse qualcuno comincia ad aver paura Paura di che cosa? Non lo so, della verità forse La verità su che cosa? James Woods non ha un attimo di tregua mentre attende il verdetto finale Prima visione tv venerdì alle 20.30 su Italia 1 Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti Air Fresh porta nella tua casa i profumi della natura Quando sei qui vicino a me Ogni giorno regala alla tua casa i profumi di Air Fresh Air Fresh, i profumi della natura Io vedo il cielo sopra noi Expressione Cannella, prugna, rame dai laboratoire Garnier Expressione Riflessi intensi che si eliminano in sei shampoo Expressione Gel fluido, colorante, dolce e senza ammoniaca Facile da applicare Il colore in libertà Prugna ardente, cannella fiammante, rami brillante Expressione, garantito dai laboratoire Garnier Paris Riflessi intensi Che si eliminano in sei shampoo Expressione Il colore in libertà Leggere un buon libro lascia sempre un segno Eh ma scegliere, a volte non è così facile Oggi vi agostini mondatori Hanno selezionato il meglio della nostra letteratura In una prestigiosa collana Grandi premi della letteratura italiana E già in edicola lessico familiare a sole 5.900 lire Con il nuovo balsamo dopo barba Nivea for Men Scoprirai cosa vuol dire prendersi cura della tua pelle Perché è un balsamo dopo barba Delicato, protettivo, idratante Nivea for Men Dolcezza per la pelle dell'uomo Marsi, sono felice E se lo merita signore Prego Grazie A noi Svelto, sale anche tu Vieni qui sopra E vieni Oh guarda, sta arrivando il treno Ecco adesso che avevo deciso di dir tutto a mia moglie Aiuto, aiuto Ma il rischio è gravissimo Non c'è tempo da perdere E la salvezza non è quella che suggerisce la bella signora Lei deve diventare il macchinista E frenare in tempo per evitare la catastrofe Caro amico Il timone della vita sta solo nelle nostre mani La banca di Roma però può essere providenziale Nell'indicarle la rotta giusta Sì ma scusi, i soldi Io non mi occupo di questioni finanziarie Ma di problemi psicologici Per il resto c'è la banca di Roma Segue il mio suggerimento E le sue angosce notturne saranno sconfitte Mi piace pensare di aver seguito un buon consiglio E mi auguro da questo momento in poi Notti serene Le stesse che auguro anche a voi Buonanotte Amaro Montenegro Sapore vero Nuovo gran fular copripoltrona Bassetti Solo per la poltrona Vi presenta Mercoledì alle 20 e 30 Ricordate, mercoledì Rita dalla Chiesa presenta Affari di famiglia Tre casi da discutere insieme Con la sentenza finale del giudice Santi Viglieri Così deciso, l'udienza è tolta Evviva gli sposi, evviva gli sposi E dopo affari di famiglia alle 22 Scene da un matrimonio con Davide Mengacci La fiaba più bella raccontata da amici e parenti di una giovane coppia nel giorno del sì Allora ricordate Questa sera su Canale 5 Affari di famiglia alle 20 e 30 Scene da un matrimonio alle 22 Cromiri di Stefano Forse il massimo per un biscotto Presentano Per il ciclo Italia 1 Occio Una prima visione tipo Siamo qui per la ragazza David! Anda! Anda! Senti zio Dacci qualche lezione Non te lo chiediamo per noi o per il torneo Ma per te e per Anda Le mani più su Forza! Bene ragazzi Volete la guerra? Non c'è posto più adatto di questo In prima visione TV Uniti per vincere Sabato 20 e 30 Italia 1 La ruota dei regali ti porta in un nuovo mulino Quello di Archimede Con i fantastici giochi ad energia solare Ehi guarda C'è la torta E la macchinina che si trasforma in gatto delle nevi E infine via C'è anche lo specchio delle scienze E un mucchio di altre invenzioni E di notte è incredibile Il mulino si illumina Averlo è facile perché trovi le sfighe su tantissimi prodotti del mulino bianco E per la mamma la collezione tovaglie 93 Fermati al mulino Scegli il tuo regalo Come posso evitare che le gengive si infiammino? È utile usare tutti i giorni un dentifricio antiplacca specifico per i disturbi gengivali Per l'autodifesa delle gengive Menta dente C con vitamina C aiuta a rinforzare le difese antibatteriche contro la placca Menta dente C imbattibile per la prevenzione dei disturbi gengivali Ciao Paola In questo weekend non ci potremmo vedere Ti richiamerò È l'ufficio Non dimenticarti di ultimare il dossier per domattina Qui è la banca Quando i problemi di tutti i giorni ti stanno stretti Spegni tutto E accendi lei La tua Peugeot 106 Peugeot 106 Il tuo modo di essere Questa settimana su Panorama Inchiesta Quanto ci costerà la stangata? E basterà? Pavarotti Zucchero Intervista alla super coppia della musica italiana Mafia Dossier segreto sulla famiglia Contrera Panorama Tutto quello che devi sapere Vai! Quanta fretta ma dove corri? Dove vai? Dove vai? Se ci ascolti per... Fantastica bandola! Se vi piace cantare Dal 28 settembre su Italia 1 C'è il gioco più divertente e più in del momento Karaoke Noi ci mettiamo la musica e le parole Voi ci mettete la buce Dal 28 settembre su Italia 1 Dal lunedì al sabato alle 20 Fiorello presenta Karaoke Ore 20 Italia 1 Si canda di brutto Combination Il rompicapo più rompicapo Presenta Non potrebbe tenere un secondo Che ho dimenticato la scontrina Grazie Dimenticato? Oh scusi Ah è gente che c'è Oh scusi Ah no me l'aspettavo Così E salvi La strana coppia Domenica alle 20 e 30 Su Italia 1 Se i segreti del computer E dei suoi programmi Vi sfuggono In edicola c'è Master in computer Il corso interattivo In floppy disk E fascicoli Per usare al 100% Tutti i programmi più utili La prima uscita Ha solo 4.900 lire Curcio Editore Graffic di Garnier Grande novità Push and fix spray senza gas Un sistema innovativo Push Lo carichi con l'aria Fix Fissa lungo la forma Spruzzo fine e continuo Graffic Push and fix Garantito dai laboratoire Garnier Paris È tornato Arnold Schwarzenegger In Terminator 2 In videocassetta Tenta video Fotografia Il nuovo corso di Agostini Per fare del tuo hobby Una grande passione O una professione Corso di fotografia Pubblica le tue foto più belle In edicola Il primo fascicolo A sole 2000 lire E una grande proposta De Agostino L'olio Valsoia Da gustare crudo È il primo olio Di semi di soia dietetico Aiuta a proteggere Dalle insidie Del colesterolo Io uso Valsoia Perché è buono Valsoia Bontà E salute Scopri sul tuo viso La nuova purezza idratante Pura Come l'acqua di una sorgente Nuovo da Oilo Volaz Idrogel Senza profumi Senza coloranti E senza grassi Ma ricco Di pure sostanze idratanti Idrogel di Oilo Volaz Purezza idratante Per la giovinezza del viso Se inseguite il sogno Di usare bene il computer Se i segreti Dei suoi programmi Vi sfuggono Insomma Ma se non riuscite A prendere in mano La situazione In edicola C'è Master in Computer Il corso è interattivo In floppy disk e fascicoli Che vi insegna Passo per passo A usare al 100% Il vostro computer Con tutti i programmi Più utili La prima uscita Ha sole 4.900 lire Curcio Editore Un programma In collaborazione con SDA Top Class Sport Gam Energia Fetta Per la vigilia Della nazionale Inamichevole Con Giurigo E quindi Grandi ospiti Grandi interviste Interventi Un'edizione davvero straordinaria Tra poco Dell'Appello del martedì Fermate il mondo Voglio scendere Ebbene un Cinar Il film di questa sera È stato presentato da Cinar Cara Il signor Francois Madame I guanti di leda Non sono guanti normali Pitti l'interno In puro cotone Così lascia le mani morbide E soprattutto fresche Cara Guanti di leda Cotone sulla pelle Ho una cotta per il corpo Quello Del buon sigillo rovagnati Rovagnati Prosciutti cotti Firmati Copri sui quotidiani Come vincere 5 milioni E con i sigilli La lampada Conosci il metodo Fabia Per stare bene Il tuo corpo Ha bisogno di acqua ogni giorno Acqua minerale Fabia Aiuta l'organismo A restare in forma Con il metodo Fabia Si informa anche tu Fabia Si informa anche tu Io lavoro con i più grandi esperti del bagnato E tenerli asciutti non è uno scherzo Lo vedo ogni giorno all'asilo E con mio figlio Michele Che sta sempre con me Per questo dopo anni di esperienza Oggi mi fido dei Pampers Fesis Anche la figlia della mia amica Ha iniziato in maternità Con i Pampers primi giorni Quelli con l'incavo Adesso Michele è nella fase primi passi E quanto sono buoni L'ho scoperto tornando dalle vacanze Michele aveva bevuto moltissimo E l'ho lasciato dormire Fino a tarda mattina Anche se avevo paura Che fosse tutto bagnato Ma quando l'ho controllato Beh, era perfettamente asciutto Perché i Pampers Fesis Hanno il sigilla pipì Che imprigiona il bagnato E non lo lascia più Neanche se li strizzi Per questo il loro asciutto è imbattibile I Pampers Fesis Li consiglierei a tutte Perché tengono i bambini asciutti In ogni fase della loro crescita Pampers Fesis Boy e Girl Fase dopo fase Anche bagnati restano asciutti Corsa O che cosa E non ti preoccupi Drive happy Don't worry Drive happy Corsa A televisione? Come la faccio io Non la fa nessuno La mia ricetta si chiama Tele più Tennis Calcio Voto mondiale Tutto in diretta A 14 ore al giorno La volete assaggiare? Senza impegno A casa volta per un mese Dove? Nei migliori negozi di tv Ne hai file Ah ecco Giovanni Ciao Già qui Che più agitato Del solito Se non andiamo subito Ci giochiamo la carriera Eh allora Dobbiamo saltare la colazione Peccato C'erano i plum cake Forse la carriera Può aspettare qualche minuto Domattina Inizia la giornata Con un fragrante plum cake Del mulino bianco Preparato con lo yogurt Per un morbido risveglio Adesso andiamo tutti a lavorare Mangia sano Torna la natura Con mulino bianco barilla Torna la natura L'appello del martedì In collaborazione con SportGum aggiunge freschezza a tutti E a qualcuno in più SportGum Energia fresca in contesti di ciulli SDR ringrazia ai signori passeggeri E si augura di ospitarli ancora A bordo dei propri servizi SDR top class SDR